Ciao, sono Cristian Crepagli, sono il titolare dell'autoriparazione NovaCart. Ti do il benvenuto nel nostro gruppo. Questo gruppo nasce per esaminare tutte le problematiche dell'autovettura a 360 gradi, cercando di prevenire invece che curare. Nello scorso post ho parlato della monotensione generica dell'auto, quindi la tagliandistica. Oggi vorrei soffermarmi nella sezione cambio. I cambi manuali li conosciamo, li usiamo da una vita, in pratica sono molto affidabili. Oggi sono anche passati a 6 marce e hanno pochissima manutenzione. Li prendiamo in esame solo nel momento che sostituiamo il gruppo fruzione sostituendo il suo lubrificante. Invece i cambi automatici che stanno prendendo piede negli ultimi anni partono con i vecchi cambi a 4 marce, i Matic che comunque erano lenti nell'innesto, consumavano di più della versione manuale, avevano delle prestazioni leggermente inferiori della versione manuale. Ma proprio perché erano dei 4 marce. Poi si è passati a dei cambi CVT, quindi cambi automatici variabili, comandati con delle cinghie dentate o delle cinghie in gomma, strutturate proprio per questo cambio, dove abbiamo la manutenzione di sostituzione di lubrificante e verifica della cinghia di innesto che va sostituita al momento che è usurata. Si è passati i cambi dopo frizione, frizione a secco, frizione a bagno, oggi siamo già arrivati a cambi 7, 8, addirittura 9 marce, quindi cambi con strategia elettronica molto evoluta, doppietta e scalata, cambio diversificato tra motore caldo e motore freddo, quindi siamo a ottimi livelli sui cambi automatici e hanno addirittura prestazioni superiori manuali. Però vorrei soffermarmi su quello che può essere la manutenzione del cambio automatico, perché molte case lo prendono in esame, come ho già parlato in un video sulla nostra pagina Autoriparazione Nova Carat, ma purtroppo tante case non danno tagliandistica di manutenzione. Questo è da prendere in esame, soprattutto lo consiglio a tutti, rivolgiti al tuo Autoriparatore di fiducia, quindi cerca di sensibilizzare lui e di essere coerente tu, che ogni cambio automatico ha bisogno di manutenzione, perché avere un lubrificante fresco di buon livello con anche l'ostituzione del filtro e eventualmente l'adeguamento diagnostico del pacco frizione di autoattività del cambio ti dà la possibilità di avere un cambio al massimo, come se fosse nuovo, con le prestazioni ottime e risolvere eventuali problemi che si possono verificarsi in futuro. Succede spesso, macchine anche di alto livello si recano da noi, oltre 100.000 km, 150.000 km, con problematiche segrettamente in partenza, marce che non entrano bene, strappi, marce che non escono, e l'unica diagnostica anche della casa madre in quel caso è l'ostituzione del cambio. Parliamo di riparazioni molto costose che ti costeranno tanti soldini, a volte anche 4, 5, 6.000 km. Oggi ci sono anche centri di alto livello che certificano una riparazione di questi cambi, però comunque si parla sempre di riparazioni abbastanza ingenti, quindi effettuare una manutenzione ti permette di preservare il tuo cambio e risolvere magari un problema che potrebbe verificarsi un domani. È molto importante capire il lubrificante giusto da usare, ci sono diverse case che comunque hanno lubrificanti delle stesse standard e gli stessi codici rispetto alle case madri, quindi ti consiglio di farlo questa tagliandistica. Il consumo del cambio dipende anche molto da che tipo di guida hai e da che utilizzi hai, però io consiglio dall'arco di 60, massimo 80, 90.000 km eseguire un tagliando il tuo cambio automatico perché ti permetterà di averlo sempre al meglio. Ci sono molti casi che si verificano, quindi ti invito a espormi nei commenti casi o problematiche o dubbi che tu hai, così li prenderemo in esame magari nei prossimi video. parleremo di un problema che è realmente accaduto, di un problema che è stato risolto. Quindi al momento ti dico ciao e ti aspetto al prossimo video. Ciao, grazie mille.